Si terrà domani in piazza Sesenarza, Monte Corvino, Rovella, il Bau Day. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e organizzata dall'animalista Maria Baldi e dai suoi volontari, oltre che dal Movimento Una, associazione di volontariato Carmine Longo. Il programma prevede dalle 10 alle 13 la microcippatura gratuita e consulti veterinari a cura del dottor Lorenzo Villecco. Dalle 17 alle 20 e 30 si vivranno alcuni momenti di formazione e sensibilizzazione. Pet Therapy, laboratori ludico-didattici per bambini e la consegna e lo scambio di doppioni delle figurine Amici Cucciolotti. A chiudere l'evento, la sfilata canina.